Buongiorno a tutti e benvenuti. Penso che dalla sua Milanello, che è qui alle mie spalle, sia importante per Andriy Shevchenko ricevere un abbraccio caldo, dolce, fraterno per la sua elezione al nuovo presidente della Federcalcio Ucraina. In un momento storico importante, eloquente, Andriy Shevchenko sceglie la trincea con il suo sorriso, con la sua determinazione, con il suo legame sentito, viscerale, feroce, con la sua patria e con la sua terra. Quindi tanti tanti complimenti e tante tante congratulazioni ad Andriy Shevchenko. Vedo da parte di molti di voi messaggi diciamo molto sconsolati, afflitti, di sfogo, di critica, più che di contestazione, contestazione o un'altra cosa, di critica sul mercato. Molti di voi pensano che adesso avete fatto uscire le date dei recuperi dei difensori, nessuno ha fatto uscire nulla. Il primo a parlarne è stato Stefano Pioli sabato scorso, anzi venerdì scorso, prima della trasferta di Udine ed è normale perché tu devi programmare la stagione, la lista UEFA, a metà febbraio torna l'Europa League e devi avere un'idea di quando potranno tornare i giocatori. Poi i giornalisti, una volta sentita la frase di Stefano Pioli, si informano, fanno domande, chiedono, cercano di capire, confrontano le piste e danno le loro previsioni. Ma non è che uno strategicamente fa uscire perché è il mercato, certamente il mercato. Molti di voi sono convinti che non arriverà nessuno, potrebbe essere, ma io continuo a credere e a sperare che alla fine un difensore resterà impigliato alle reti che si tirano in barca a fine mercato, fine mercato che ormai sta arrivando. Io resto convinto di questo e quindi vedremo quello che in effetti accadrà. Poi posso sbagliarmi, i tempi stringono, in questo momento sarebbe più comodo e sbrigativo per me dire ragazzi andiamo avanti così, io non dico mai siamo a posto così, siamo ipercompetitivi così, è una caricatura arrabbiata e cattiva che qualcuno fa delle mie parole, ma io non dico mai questo. Vediamo se per un difensore ci sarà l'opportunità di mercato di chiudere una operazione, vediamo di qui alla fine del mercato di gennaio, nel corso del mese di gennaio ci siamo portati avanti fino a questo momento piuttosto bene, anche se la parita col Bologna sarà durissima, anche con i difensori con i difensori che abbiamo. Mercato su cui non c'è, lo voglio chiarire e ribadire una volta per tutte, avviso ai naviganti, una tensione o un accento particolare di Stefano Pioli. Ad ogni conferenza stampa viene chiesto a Stefano Pioli del mercato e Stefano Pioli educatamente risponde. Ma non è che Stefano Pioli insiste o preme, Stefano Pioli insiste o preme è un uso che si fa di Stefano Pioli, ma il mister è pronto a fare con il gruppo che ha, poi vedremo se ci sarà la possibilità dopo il tanto lavoro fatto nel corso del mercato di gennaio per trovare l'incastro giusto, l'opportunità giusta, la situazione giusta, ci sarà la possibilità di arrivare davvero a un difensore. Parlo di difensore, non di centrocampista, io non voglio fare l'arzigogolo, il macchiage o a mia volta la caricatura, il nuovo acquisto e Ben Nasser. Ben Nasser naturalmente nei prossimi giorni è atteso a Milanello, la sua Coppa d'Africa è finita prima del tempo, per cui è chiaro che prima torna, meglio non è per lui che sperava di andare avanti in Coppa d'Africa con la nazionale algerina, ma lo dico in maniera molto cinica ed egoista, è molto meglio per noi, perché Isma Benna è un giocatore per noi molto molto importante. Per cui è chiaro che in questo momento rimane fuori pobega, però nel nostro mese di gennaio non è successo soltanto che Ben Nasser torna prima del tempo, è successo anche che Adli ha svoltato. Adli rispetto anche agli ultimi mesi del 2023 ha avuto una notevole impennata del suo rendimento. Le critiche che ho visto anche questa mattina su Milan News da parte di Franco Ordine a Ben Nasser per la sua partecipazione alla Coppa d'Africa, io non entro nel merito delle opinioni, ciascuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutto si può discutere nel calcio, ha anche le opinioni, ma le opinioni restano di chi le ha espresse senza nessun tipo di sentenza mancherebbe altro, nessun tipo di dito puntato mancherebbe altro. Però mi permetto di dire che per quello che risulta a me, a fine dicembre Ismael Ben Nasser si era rivolto al CT della nazionale algerina per poter giocare la partita con il Cagliari in Coppa Italia, perché era il CT algerino a dover, era stata la figura delegata dalla federazione a decidere in casi del genere e Ismael Ben Nasser sperava di poter avere l'autorizzazione, l'ok per giocare Milan-Cagliari, si è battuto per avere l'autorizzazione per giocare Milan-Cagliari, ma il CT algerino è stato irremovibile, ma non soltanto nei confronti di Ben Nasser. La risposta che ha avuto Isma, credo sia stata più o meno di questo tenore azzardo, non è una cosa nei tuoi confronti, ma è un atteggiamento che riservo a tutti i giocatori della nazionale algerina. Il CT algerino ha deciso così e la federazione ha ridosso, come si può ben comprendere, di una importante competizione per nazioni, come sarebbe per la nazionale azzurra prima di un mondiale o prima di un europeo, il CT ha adottato un criterio su cui la federazione non aveva la possibilità di intervenire, quindi poi ciascuno resta della sua idea e della sua opinione. Io credo che tutti i tifosi del Milan non vedano l'ora di riavere dentro la squadra il Ben Nasser di Milan-Sassuolo, il Ben Nasser che dà la palla della vittoria a Pulisic, il Ben Nasser che riempie il campo come si deve. Quindi questo è quello che credo sia giusto dire dal mio punto di vista per quello che risulta a me, per quello che so io su Ismael Ben Nasser. Per cui oggi di centrocampisti in relazione al Milan si è parlato solo di Matici nel corso di questo mese di gennaio, ma vi ho detto subito che l'opportunità deve avere certi connotati, deve rispettare un certo tipo di linea, per cui con tutto rispetto per Matici, però una situazione legata all'età, agli ultimi sviluppi della sua carriera. Matici ha il diritto e la speranza di poter andare bene per molte squadre, ma Matici è stato accostato al Milan non perché il Milan l'abbia trattato, ma perché evidentemente nel mondo attorno a Matici c'era interesse a tenere alto un certo tipo di attenzione sul giocatore e sui media. Per cui se nel corso di un mese di gennaio si parla solo di Matici in relazione al Milan, torna prima del tempo Ben Nasser, cresce Adli, poi vedremo per quanto riguarda Ben Nasser quando tornerà a Milanello, continua a risultare che io non firmo cambiali, non faccio bollettini medici e non faccio comunicati ufficiali, però la sensazione prevalente a oggi è che il fastidio all'aduttore non sia qualcosa di particolarmente grave. Quindi ad oggi, posso affermare al 25 gennaio che Ben Nasser è una prima del tempo una cosa positiva, Adli è cresciuto nettamente e gli altri centrocampisti ci sono, stanno facendo bene, per cui da questo punto di vista pensare che diventi un'emergenza prioritaria al centrocampista al 25 gennaio quando in realtà la priorità è il difensore, ecco è un pensiero libero e legittimo di chi lo fa, ma onestamente non tanto il mio quanto il pensiero della società, perché qui ci sono momenti in cui, e succede nel 99,9% dei casi, vi dovete accontentare quello che penso io e in qualche caso invece cerco di rispecchiare quello che è il mood e il sentiment, soprattutto in termini di mercato, a parte la società, che è quello che vi è più interessante. A più tardi!